Ho bruciato il sugo della domenica, mentre guardavo il volto scavato di Chet Baker. Google risponde a tutti i tuoi desideri, te li cerca e te li mette davanti, e tu puoi afferrare quel surrogato di soddisfazione. Ho spazzato le foglie in giardino. No, erano morte, tutte colorate ma morte. Curioso, le cose morte di solito sono senza colore. Di solito. Ho accarezzato il mio gatto. Ci siamo guardati per un tempo infinito, in silenzio, tutti e due muti. Lui ha capito e mi è rimasto accanto. Nel pomeriggio mi sono guardata le gambe, poi gli occhi, poi la bocca, poi di nuovo le gambe. Me le ricordavo peggio. Poi, la domenica è andata via.